La mia performance è una rete di comunicazione che vado a creare con me, con la musica e con l'ambiente esterno. Quindi anziché andare ad esprimere un qualcosa, tirarlo fuori e metterlo nella tela, vado a fare il procedimento inverso, ovvero vado a racchiudere un momento in un tempo illimitato nella tela attraverso la performance bodale e collection painting di Pollock. Quindi creo praticamente una sincronia tra musica, corpo e arte. Stasera abbiamo ancora una volta aperto le porte di questo museo e i giovani. Da quando sto portando avanti questo discorso, sono ormai circa sei mesi, in più occasioni ho detto che preferisco i giovani in questo museo, poiché ritengo che hanno a volte molte più cose da dire da persone che spesso hanno grossi curriculum, però alla fine niente dicono. E con Sara credo che sarà il punto di forza di queste iniziative che continueranno poi con i giovani dell'Accademia nei prossimi giorni. Quindi stiamo a vedere la performance e poi giudicheremo la mostra. Grazie a tutti.